Il giro allo stato delle strade nel comune di Teramo, questa mattina è stata chiusa una strada. C'è un fronte di terreno che sta scivolando sul collegamento sotto al Michelangelo, la strada che porta l'Università al Palazzo di Tiscapriano. È un fronte importante, abbiamo ritenuto opportuno perché sono previste anche piogge, domenica e lunedì, importanti di chiudere quel tratto perché la massa di terreno che sta scivolando verso la strada è notevole. Mi sono fatto un giro anche tutta la zona con gli uffici insieme alla zona di Colleparco, la zona tutta Colleparco, soprattutto la parte alta. Ci sono frondi di terreno che stanno scivolando verso il basso, dunque sono delle situazioni molto importanti sperando che non peggiori con le piogge dei prossimi giorni e poi vedremo il da farsi. Il comune scriverà alla regione per chiedere un intervento sostanziale e sostanzioso? Bisogna che il governo e la regione mettono a disposizione i comuni, non del comunitano, di tutti i comuni, penso in Italia, fondi per quanto riguarda il distestroio idrogeologico e si faccia una politica diversa sul distestroio idrogeologico perché è uno dei problemi dei prossimi anni soprattutto per le infrastrutture pubbliche, ma non solo, ma anche quelle private perché la zona di Colleparco, le diverse frane interessano anche delle abitazioni di fronte di terreno dove non vengono più coltivati, dove le regimizzazioni delle acque vengono fatte a casa, non sono più convogliati nei fossi o nei tombini che non vengono più ripuliti, dunque il problema è serio per quanto riguarda il distestroio idrogeologico e le frane in tutto il territorio comunale, non solo.